Forum delle culture 2013, questo è il tema del Consiglio Comunale di oggi. In apertura di seduta, il presidente Raimondo Pasquino ha espresso compiacimento per la nomina del professor Gino Nicolaes come nuovo presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il sindaco De Magistris, dopo un breve resoconto sul Forum delle culture e dopo aver sottolineato la pesante eredità lasciata dalla precedente amministrazione, si è presentato come nuovo punto di riferimento per la gestione di una manifestazione come quella del Forum, che rappresenta insieme all'American's Cup un'imperdibile occasione di rilancio per la città. La gestione diretta del Forum passa così al Comune, che in collaborazione con la Regione e tutte le istituzioni coinvolte, avrà lo scopo di lavorare per offrire ai cittadini la possibilità di riappropriarsi della cultura e di partecipare in maniera attiva ad un appuntamento che vede la città di Napoli mettersi in mostra agli occhi del mondo. Grande è stata la partecipazione dell'Aula dopo l'illustrazione iniziale del sindaco e in seguito sono stati approvati quattro ordini del giorno. La richiesta al sindaco di attivarsi per portare fondi aggiuntivi, la raccomandazione per concreti interventi sul territorio volte all'accoglienza, l'istituzione di una commissione consigliare di vigilanza a grandi eventi e infine l'impegno a finalizzare le risorse per creare un adeguato sistema di accoglienza e ottimizzare la macchina comunale allo scopo di valorizzare l'offerta culturale e artistica cittadina e ad aprire nuovi spazi che restino, dopo il Forum, in dotazione della città. Grazie a tutti!